Ben trovati cari telespettatori di Fano TV ad una nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia. In primo piano l'incidente, il grave incidente che si è verificato questa mattina intorno alle 10.50 lungo la superstrada Fano Grosseto, all'altezza dello svincolo di Bellocchi. A scontrarsi sono stati un auto e un motoveicolo, una vespa di grossa cilindrata. A causa del violento impatto per il Centauro, un ottantenne residente nel nostro territorio, è stato necessario l'intervento dell'Elia Ambulanza che lo ha trasportato al Torrette di Ancona. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Stradale di Urbino che, oltre ai rilievi, ha chiuso temporaneamente al traffico il tratto interessato dal sinistro. è ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.